Oltre 27 mila euro raccolti dall'edizione indoor del mercatino dei ragazzi del Calcit organizzato all'Arezzo Fiere e congressi dalle scuole aretine quest'anno 18 quelle presenti. Centinaia di ragazzi ancora una volta hanno sostenuto il comitato aretino che da anni lotta contro i tumori e raccoglie fondi per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie e donare strumenti all'ospedale San Donato di Arezzo. Il mondo della danza come sempre è stato parte integrante dell'evento quest'anno anche con il primo galà della danza intitolato Dotello Bracci. Colui che assieme a Gianfranco Barulli e Franco Palazzini hanno dato il là tanti anni fa a questa splendida realtà. Proprio all'interno del galà le due più belle novità di quest'anno ovvero la presenza di Nicola Lepraie e Martina Restuccia, maestri di danza sportiva dell'Associazione Alcobaleno, due professionisti che ballano rappresentando l'Italia per la Federazione Italiana Danza Sportiva e Donatella Maggi di 100% circo che si è esibita nella suggestiva disciplina della danza aerea. Il mercatino in danza ha visto poi il suo culmine con la classica rassegna giunta quest'anno alla quinta edizione e di tanti stage che i ragazzi hanno potuto effettuare con i professionisti arettini delle scuole che hanno aderito. Non solo danza però nella giornata di domenica sono tornati anche il volley e l'educazione stradale con la presenza delle forze dell'ordine dell'assessore Vincenzo Ceccarelli. Insomma divertimento e solidarietà come sempre con il Calcit vanno di pari passo. I prossimi appuntamenti con il mercatino saranno in primavera e poi a maggio il mercatino per eccellenza nelle vie del centro di Arezzo.